Il dramma sulle piste a Gallio, sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il bambino veronese di 7 anni precipitato dalla seggiovia sul caso stanno indagando i carabinieri di Tiene. Ancora una vittima lungo la strada regionale del Santo a Cadoneghe, nello scontro frontale tra due auto un furgoncino ha perso la vita una 66enne di Sernaglia della battaglia nel Trevigiano. Caso Cecchettina saranno assegnati mercoledì prossimo dalla procura di Venezia l'incarica ai periti che dovranno analizzare le tracce di sangue trovate nell'auto di Turetta. Il femminicidio di Riese Pio X, il presunto assassino prima di essere arrestato, chiama il 112, quello che non dovevo fare l'ho fatto, dice parole che per l'accusa sono una confessione. Assente dal lavoro per anni un radiologo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Venezia per truffa, non sarebbe stato vero che accudiva la madre disabile. La crisi a Suez ha dirette conseguenze sull'economia veneta, 11 miliardi di import sono a rischio, dobbiamo riportare le filiere in Europa, dice Mario Pozza. Domenica da ricordare per l'atletica padovana, la novantenne Emma Maria Mazzenga, classe 1933 ha battuto il record Mondiale Master sui 200 metri. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna, tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ringa, la trasmissione che torna in diretta a partire dalle 21 su Antena 3 con il vice direttore Ferdinando Avarino. Il sondaggio è di politica, come spesso tensioni per le regionali, il centro-destra si spacca, questo è il quesito. L'esito del sondaggio questa sera a Ringa con Avarino a partire dalle 21 qui su Antena 3. La cronaca, dicevamo tanti i fatti. Partiamo dall'incidente di ieri, le sue conseguenze, il dramma che si è consumato in una seggiovia a Gaglio. È ancora gravissimo il bambino di 7 anni della provincia di Verona, che oggi è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Un volo di 8 metri sull'asfalto dopo essere salito sulla seggiovia. Attimi di angoscia domenica mattina a Gaglio, in località Melette, dove un bambino di 7 anni, residente a San Bonifacio, nel Veronese, stava seguendo le lezioni di sci. Salito sulla seggiovia a Longara, dopo qualche minuto è scivolato sotto la sbarra di sicurezza. Provvidenziale l'intervento della persona che si trovava accanto a lui, che l'ha afferrato al volo, evitando che il piccolo si schiantasse sulle rocce sottostanti. I tecnici, dalla cabina di comando, hanno bloccato la seggiovia, hanno attivato la retromarcia per limitare l'impatto. Ma proprio a poca distanza dalla base, la persona che teneva stretto il ragazzino non ce l'ha più fatta e ha mollato la presa. Il bimbo è precipitato sull'asfalto, riportando serie fratture al bacino e agli arti inferiori. Sottoposto a una lunga operazione, durata più di 5 ore, al San Bortolo di Vicenza, dove è stato portato con l'elisoccorso, ora si trova in terapia intensiva pediatrica. Una vicenda che ha visto aprirsi un'indagine da parte dei carabinieri di Tiene, che stanno visionando le immagini delle telecamere della videosorveglianza. I primi a dare soccorso al bambino sono stati proprio i carabinieri sciatori, presenti sulle piste delle melette, oltre al personale della seggiovia in attesa dell'ambulanza del SUEM. È una casualità, ma proprio è quasi impossibile. Sono sorgere seggiovie ultra collaudate e queste cose non capitano assolutamente. Perché in una giornata come ieri saranno state tantissime le persone che hanno sfruttato questa seggiovia? Assolutamente sì, parliamo di 4-5 mila persone che hanno utilizzato questa seggiovia ieri e sicuramente c'è stato un grosso flusso ieri di pubblico. La seggiovia potrebbe venire chiusa? Non lo so, quello deciderà il magistrato. Dubito che venga chiusa, perché è fondamentale l'utilizzo di questa seggiovia per tutte le melette, per l'utenza anche dei principianti, siamo poi un campo scuola questa seggiovia, è basilare che funzioni. Tra l'altro nell'immediatezza una persona ha bloccato il traffico lungo la strada dove è caduto il piccolo, ma non solo. Quando la seggiovia faceva retro per arrivare in stazione, che poi non ce l'ha fatta, si è messo anche sotto per cercare di attutire l'impatto del ragazzino. So che ha preso una botta al polso, cose del genere, però lo ringraziamo perché è stato veramente bravo per dare una mano in quel senso. Nei prossimi giorni si saprà se verrà richiesta dunque la chiusura della seggiovia, anche se pure da chi sta svolgendo le indagini, in via ufficiosa si parla di una fatalità. Alle melette in giornata si sono recati anche i funzionari dell'Ustif, del Ministero dei Trasporti, per tutte le verifiche del caso. Ancora una vittima lungo la strada regionale 308 del Santo a Cadonega. a perdere la vita nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 66 anni, di sernaglia della battaglia. Una corsia per carreggiata nel tratto della strada regionale 308 del Santo, dove è avvenuto il tragico incidente. Erano le 13.30 quando nel territorio del comune di Cadoneghe, all'altezza del chilometro 4 più 400, si sono scontrati un'auto e un furgoncino coinvolto un terzo veicolo. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo un uomo di 66 anni, residente in provincia di Treviso. Immediati sono scattati i soccorsi con l'arrivo dei sanitari del Suem 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri con gli operatori di Veneto strade. Vanno i tentativi di salvare il 66enne, estratto dalle lamiere accartocciate del furgoncino. Nonostante il massaggio cardiaco praticato a lungo sull'asfalto, l'uomo ha perso la vita. Sotto shock, ma non feriti in modo grave gli occupanti delle altre due auto. Da subito lungo la strada, una delle più trafficate di tutto il Veneto è stata Paralisi. Code lunghissime che hanno paralizzato per tutto il pomeriggio la circolazione nell'Alta Padovana. La strada regionale 308 del Santo, se ce ne fosse stato bisogno in modo così tragico, dimostra ancora una volta come sia una strada sottodimensionata per le necessità di tutta questa zona. Bloccati per ore le auto e i mezzi pesanti, la strada regionale 308 è stata chiusa per permettere ai rilievi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sia in direzione di Padova sia in quella di Castelfranco Veneto. Giorgio Frezza è il nome della vittima di 66 anni di sernaglia della battaglia. E rimaniamo sulle strade del Veneto per una tragedia sfiorata che ha fatto discutere. Ero in ansia, correvo veloce perché era suonato l'allarme di sicurezza della mia fabbrica, stavo andando a capirne e a sincerarmi le ragioni. Le prime parole a soccorritori e forze dell'ordine dell'imprenditore Mestrino di 50 anni che all'alba di domenica è letteralmente scampato alla morte dopo l'incidente avuto lungo il cavalcavia della Vempa a Mestre a circa 500 metri di distanza dove il 3 ottobre scorso ci fu la strage del bus con 21 morti. Lì c'è il limite di 50 km all'ora, siamo in una curva, siamo in un punto delicato e lì si è andato al di fuori di ogni limite di immaginazione della velocità. Domenica il 50enne sembra invece procedesse almeno a 100 km orari quando anche a causa della strada ghiacciata, vista le basse temperature, si è schiantato in corrispondenza della curva a gomito contro il guardrail, sfondandolo e rimanendo a bordo dell'auto sospesa a mezz'aria a 10 metri d'altezza. Una scena a dir poco da brividi, eppure sebbene sotto shock e fortemente provato è rimasto miracolosamente illeso e capace di scendere dall'auto per chiedere aiuto. Un appello, la gente deve rispettare il limite della città. Non si può liquidare la gravità del fatto con affermazioni del genere, la risposta a distanza Boraso del gruppo consigliare tutta la città insieme che aggiunge e se fosse stato un bus si potrebbe avere meno rischi posizionando semafori dissuasori o un autovelox, mentre il PD chiede l'istituzione di una commissione per far luce sullo stato di manutenzione dei viadotti della città. Oggi già il lavoro tecnico e forze dell'ordine per il ripristino del guardrail danneggiato con deviazione alla circolazione per i veicoli che da Venezia si dirigono verso Mestre Centro con indicazione verso le vie Torino e Marghera. Lo dico in maniera chiara, non possiamo chiudere il punto di accesso principale alla città di Mestre. Abbiamo dei progetti, in corso abbiamo l'intervento sul cavalcavia superiore di 6 milioni e 4 per rifare tutto il guardrail e la messa in sicurezza. Mercoledì prossimo saranno attribuiti di incariche ai periti che analizzeranno le tracce di sangue trovate nell'auto di Filippo Turetta, il 22enne reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin e sui dispositivi elettronici, telefonini e pc rinvenuti sulla stessa auto. Ieri si analizzeranno anche le tracce di nastro adesivo e quelle sui due coltelli, uno trovato in auto, l'altro spezzato nel parcheggio di Vigonovo dove è avvenuta la prima aggressione. L'altro femminicidio, quello di Vanessa Ballan, Bujar Fandai, prima di essere arrestato chiama il 112 e parla con un carabiniere. Le sue parole per la procura suonano come una confessione, in questo servizio la telefonata di Fandai. La merda che ho fatto, la merda che ho fatto, quello che non dovevo fare, l'ho fatto. Sono le frasi pronunciate da Bujar Fandai, il 41enne in carcere per il brutale omicidio di Vanessa Ballan, parole che suonano come una confessione e che inchioderebbero l'uomo. Una telefonata che risale alla sera del 19 dicembre quando, dopo aver accoltellato la mamma 26enne, Fandai scappa e durante la fuga decide di chiamare il 112. Prima di telefonare toglie però la sim appena acquistata per non essere rintracciato. Poi compone il numero di emergenza e parla con un carabiniere che appena lo sente cerca di tenerlo al telefono e di persuaderlo a costituirsi. È freddo, non sei una persona abituata a vivere in mezzo alla strada. Il 41enne vuole depistare gli uomini dell'arma ma senza fare riferimenti, senza fare il nome di Vanessa, dice. La merda che ho fatto, la merda che ho fatto. Una conversazione che dura pochi istanti. Ascoltami Bujar, sono cose che possono succedere, lo sappiamo benissimo. Dove ti trovi ora? Non ho neanche le batterie, quasi scariche le batterie. Ascolta Bujar, c'è un'ambulanza là vicino con una luce accesa blu. Se la vedi chiedi soccorso ai due infermieri. Non ti preoccupare, non succede niente, poi parliamo. Quello che non dovevo fare, l'ho fatto. Lo so, lo so, tu l'hai fatto, per carità hai sbagliato. Noi lo sappiamo benissimo, tu lo sai che hai sbagliato, noi anche. Noi facciamo il nostro lavoro, tu però per... È in questo momento che termina bruscamente la telefonata. Van Dijk capisce che potrebbe essere localizzato. Poi rimette la sim, forse per fare una chiamata, ma grazie a questo viene rintracciato dai militari dell'arma. Per lui i minuti sono contati. I carabinieri lo attendono silenziosi vicino alla sua abitazione. Lui pensa che lo stiano cercando nei campi. Rientra, si fa la doccia, probabilmente vuole espatriale tornare nel suo paese per nascondersi. I carabinieri però buttano giù la porta e lo arrestano. Prima il 41enne in carcere si avvale della facoltà di non rispondere, ma il 30 gennaio racconterà forse la sua verità ai magistrati. A proposito di violenza di genere, un uomo di 72 anni è stato arrestato dai carabinieri di Verona con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nonostante fosse stato recentemente raggiunto da un ammonimento per maltrattamenti nei confronti della moglie della sua stessa età, 72 anni, quindi ha continuato a vessarla e aggredirla, finché la donna è riuscita a chiedere aiuto al 112. L'uomo è rinchiuso nel carcere veronese di Montorio. A Vicenza, eseguito dalla polizia il primo arresto in flagranza di ferita in provincia, lo strumento introdotto recentemente ha riguardato un 43enne italiano. Nel giorno dell'anniversario del delitto di Isabella 90, Manuela Cacco, condannata per la complicità nel suo omicidio, lo ricorderete, potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per fare volontariato. Otto anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, Isabella 90 veniva uccisa dai fratelli Freddy e Deborah, assorgato con la complicità di Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, ex amante del ballerino camionista. Oggi la donna potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per 4 o 5 ore per andare a fare volontariato. La Cacco, unica del terzetto diabolico ad aver collaborato con gli inquirenti, è stata condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi per aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio e poi alla soppressione del cadavere di Isabella e anche per stalking nei confronti della 90 e di simulazione di reato. Manuela Cacco, la notte del delitto, si era anche prestata alla messa in scena camminando nelle piazze di Padova, indossando il giubbetto bianco di Isabella e fingendo di essere la donna per depistare le indagini. Manuela Cacco è rinchiusa da 8 anni nel carcere della Giudecca a Venezia, ha scontato metà della sua pena, uscirà un solo pomeriggio alla settimana. Il suo avvocato però non esclude che più avanti possa anche iniziare a fare delle attività lavorative. La notizia della sua attività di volontariato arriva nel giorno dell'anniversario della morte di Isabella, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Per la famiglia 90 si tratta di un nuovo dolore. Comunque la Cacco, anche lei, ha deciso di uccidere mia sorella insieme agli altri tre, anche se non è stata l'esecutrice materiale, ma comunque lei ha premeditato insieme agli altri due di uccidere mia sorella. Adesso la reso italiana purtroppo è questa e la accettiamo per quello che è, ha collaborato con la giustizia, allora gli hanno tolto 15 anni così me la troverò in giro per strada, non so come reagirò, ma me ne farò una ragione. Un radiologo che vive e lavora nel veneziano, vive e lavorava nel veneziano, è ora nei guai. Vediamo perché. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 38 mila euro a un radiologo per una truffa che avrebbe commesso ai danni dell'Inps. Da quanto ricostruito, il tecnico, dipendente di una casa di cura veneziana, era assente dal lavoro da quasi due anni, beneficiando del congedo straordinario per assistere la mamma di Isabel, residente al sud. Gli investigatori però hanno scoperto che era una menzogna. Le indagini eseguite dal nucleo di polizia economico-finanziaria attraverso pedinamenti, appostamenti, analisi dei tabulati telefonici e dei dati bancari hanno permesso di accertare che il radiologo durante il congedo, anziché aiutare la mamma, continuava a vivere a Venezia frequentando addirittura locali pubblici e continuando a percepire l'indennità sostitutiva dello stipendio. Oltre al sequestro disposto dal GIP di Venezia, il tecnico è stato denunciato per la violazione dell'articolo 640 bis del codice penale. Le fiamme gialle interesseranno anche la Corte dei Conti per l'avvio del procedimento per danno erariale relativo alle somme indebitamente percepite. Annunciata, quanto attesa domani al Senato si aprirà la discussione sull'autonomia differenziata, il DDL Calderoli per intenderci. Si tratta di una prima volta, nessun testo di legge in materia fino ad oggi era arrivato fino in Parlamento. Parla di una data storica il governatore del Veneto, Luca Zaia, quanto è dato sapere. domani ci sarà un vertice di maggioranza per discutere dei LEA e sono invece 400 gli emendamenti già presentati da parte dell'opposizione. Ma domani è un'altra giornata importante anche per la questione del fine vita e da Roma andiamo a Venezia, a Palazzo Ferrofini. Io sono a favore di questa legge perché secondo me è giusto che una persona abbia anche questa possibilità soprattutto per evitare che ricorra ad altri metodi non legali. Bisognerebbe dare a qualsiasi cittadino la libertà di fare quello che vuole quindi io sarei a favore. È una scelta molto personale quindi secondo me dovremmo dare la possibilità a chi vuole fare questa scelta. Io sono pienamente d'accordo sul fatto che una persona possa decidere del suo destino e quindi anche della sua morte. Penso che in condizioni estreme sia meglio avere una risoluzione così piuttosto che continuare a soffrire. È giusto che uno possa morire come vuole. Aiutare chi sta soffrendo a non soffrire più. Questo è il concetto che io penso perché ci sono situazioni che vanno proprio accompagnate. Il Veneto è l'unica regione in Italia a trattare questo tema spiega il governatore Luca Zaia a fronte di una richiesta civile e legittima di migliaia di cittadini. Sarà una giornata storica se passeranno i favorevoli ma qualcuno la pensa diversamente. Sono assolutamente contraria anche perché non si può chiedere a un medico di uccidere perché è questo di cui si tratta e la sanità ha altri bisogni molto più urgenti prima vengono quelli. In ogni caso tutta questa teoria del fine vita e farla finita prima non tiene conto della dimensione religiosa che la vita continua e dopo bisogna anche rispondere dei propri gesti. Non è che con la morte finisce tutto, è un grande inganno, è un errore. Quindi la vita va accolta tutta fino alla fine. Al massimo si possono accettare le cure palliative per alleggerire il dolore. Ci sono. Questo quindi è l'umore dei trevigiani in vista della discussione di domani a Palazzo Ferrofini. Noi ci fermiamo per un break velocissimo. Di nuovo in diretta per la pagina economica le ripercussioni venete della crisi a Suez. Ci sono dei dati importanti perché il Veneto importa da quell'area geografica lì 10,7 miliardi il 15% del totale delle importazioni regionali. Arrivano fino in Veneto i venti di guerra che soffiano sul Mar Rosso e non potrebbe essere altrimenti per un territorio profondamente manifatturiero più che l'export, la voce predominante è quella dell'import prodotti semilavorati e materie prime diretti nelle nostre fabbriche. Per Treviso sono circa 2 miliardi e 6 e per Belluno sono 525 milioni. Noi consideriamo che abbiamo un manifatturiero molto molto importante e quindi abbiamo aziende leader mondiali che esportano grazie a queste produzioni che arrivano, a questi semilavorati che arrivano dall'estero. Però sono a rischio, sono a rischio posti di lavoro. La crisi sul canale di Suez con i raid anglo-americani contro gli UTI già si vede e si sente. La cartina di Tornasole sono i porti a nord-est su tutti Venezia. Vediamo già che i porti stanno già soffrendo perché non arrivano più i container e quindi c'è tutto un indotto che poi va a rischio. Ma non c'è solo Suez. A cambiare l'intera cartina geopolitica, l'Ucraina, il Medio Oriente e ora Taiwan con il rischio di un inasprimento dei rapporti con la Cina eppure un'alternativa ci sarebbe. Saremo sempre sotto scacco di queste tensioni politiche e non solo. Bisogna riportare la produzione in Europa, bisogna riportare la produzione dentro il Mediterraneo e lo si può fare. Dobbiamo pensare a riportare le produzioni, come ho detto, in Europa. Voltiamo decisamente pagina. Vi raccontiamo di una novantenne da record. Novant'anni e non sentirli davvero. 54 secondi e 47, un tempo da record del mondo, quello di Emma Maria Mazzenga che ha corso i 200 metri indoor demolendo nella categoria Master 90 il primato di un minuto stabilito 13 anni fa dall'atleta canadese Olga Colteico. Nata il 1 agosto 1933, 90 anni compiuti, Emma Maria Mazzenga arriva da 4 mesi di stop per una frattura. Nonostante tutto, con grande volontà, ripreso quasi subito a fare movimento tornando a indossare le scarpette chiodate solo un mese fa. Una passione la sua per l'atletica è iniziata ai tempi dell'università. Insegnante di scienze al liceo, due figli, la novantenne sprint ha ripreso l'attività agonistica a 53 anni e non si è più fermata battendo record su record. Ad oggi la velocista padovana detiene due primati mondiali, sei primati europei, 28 migliori prestazioni italiane di categoria. Nella sua carriera Master ha vinto 21 titoli mondiali, 50 titoli europei, 113 titoli italiani. Emma, che per non farsi mancare nulla, vive in un appartamento a secondo piano senza ascensore, non si fermerà qui e guarda già i prossimi impegni compresi gli europei di Torun in Polonia. Ed è davvero tutto anche per questa edizione regionale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon proseguimento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica ancora stabile sul nostro territorio. Tempo buono. Il dettaglio di martedì 16 gennaio. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nuvolosità medio-alta e qualche nube al mattino, ma insomma sarà ampiamente soleggiato. Le temperature saranno in locale variazione, minime sotto zero, un grado solo nel veneziano, massime tra 6 e 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Su tutta la regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tanto sole comunque su tutte le province. Temperature minime tra meno 1 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato, con qualche nube alta in transito, in intensificazione a partire dalla sera. Temperature minime tra meno 4 e meno 1 grado, massime sui 5-7 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. A Dolo. A Dolo. A Dolo. A Dolo. Grazie a tutti.